In partenza per lo Shabberton! Sì, a lei piace la donna! Grazie! Grazie! Montagna piemontese, super famosa perché lassù troveremo dei torrioni, delle postazioni del Guerramo. Sono belle, sono imponenti, tutta questa zona bellissima avevano una vista ampia. Poi oggi ce l'abbiamo anche noi perché fortunatamente è tutto terzo, quindi riusciamo a vedere veramente tanta bellezza. E l'escursione non è difficile dal punto di vista tecnico, è solo abbastanza lunga. Vabbè, se vi dico i chilometri non vi spaventano perché sono circa 8 e mezzo a andare, 8 e mezzo a tornare. Però comunque ha questa pendenza costante che la rende un po' lunga, un po' più forse noiosa rispetto ad altri sentieri. Però c'è tutta questa bellezza intorno, se lo fate in una giornata terza è bello. Il rischio è di tardare ancora di più perché si fanno un sacco di foto. E poi è sempre come fare un viaggio nella storia. Ah ecco, dimenticavo il dettaglio fondamentale, il dislivello perché il sentiero che stiamo facendo noi è mille, mille cento. Quindi comunque se non avete mai fatto escursioni in montagna non iniziate da questo sentiero. Ma se avete un po' di chilometri nelle gambe assolutamente fatelo. Noi siamo partiti da Clavier, ci sono tantissimi punti di partenza. Siamo al confine con la Francia. Divertitevi con le mappe. Grazie. 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 Tutti questi escursionisti una volta erano soldati. grattanti. Amore, sei bravissima, 3000 metri, Popi. 3000! L'effetto della quota è diventato gonfio, gonfio, gonfio e pronto a esplorere. Eccomi a casa, ieri è stata lunghissima, lo shabberton è veramente un'escursione di quelle infinite. Oggi ho qualche dolorino alle gambette, però vabbè dai vediamo di andare lo stesso ad allenarmi in palestra. Magari faccio yoga, yoga dinamico però vorrei fare quello. Vediamo un po' cosa salta fuori, ho appena fatto il bagnetto a Poppy che era in condizioni. Comunque la bellezza dello shabberton secondo me non è tanto la parte storica delle rovine che si trovano in cima, quanto invece tutto il paesaggio attorno, dal primo passo all'ultimo. Poi vabbè il paesaggio dei 3000 per me è sempre il più bello, però in realtà è bello tutto. Dall'inizio alla fine a quello che si vede intorno, però è lunga da morire. La chicca in più è stata il vederci volare sopra la testa, il grifone. Io so che è una cosa abbastanza rara di questi tempi, un po' più frequente, però qui sono appena tornati. Quindi è sempre bello vederli a casa loro, volteggiare felici. Tra l'altro abbiamo visto anche molto in basso, oltre che sopra la nostra testa e vedi l'apertura alare. Poi era un bel esemplare gigante, avrei avuto un metro di apertura alare e vederlo così per me è stato bellissimo. Molto molto emozionante. Abbiamo svelato il mistero di che cos'era quell'uccellino che svolazzava attorno al condor, alla grifone. Ed era un corvide, presumibilmente un corvo reale, perché questi animali sono soggetti al mobbing, agli avvoltoi, ai rapaci in generale. Praticamente vanno a dargli fastidio. Quindi abbiamo assistito anche a una cosa molto particolare, sono veramente contenta. Questa notizia viene dalla mia zoologa di fiducia, Yolanda. La trovate anche nel mio libro Galateo del camminare, che vi lascio qui sotto. Mi dà sempre queste pillole informative interessanti e poi era la mia insegnante di zoologia al corso per diventare guida. E mi ha anche detto che quando avvistiamo degli avvoltoi dovremmo, se vogliamo, fare la segnalazione al, in questo caso, il parco delle Alpi Cozzie. Io ho guardato semplicemente il loro contatto sul sito ufficiale e gli ho mandato il tutto, perché loro monitorano.